Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita Oggi siamo su Black Skylands, un gioco in uscita il 9 di luglio Sviluppato dagli Angry Couch Un team di 15 persone, questo è puramente un indie Ha una grafica molto strana, pixelosa, ma strana Ma si denota veramente una gran cura per alcuni dettagli che andremo a vedere Non vi racconterò per filo e per segno la storia Insomma si tratta però di persone che vivono su queste isole fluttuanti Il gioco non è in italiano in futuro, non so se verrà tradotto, si spera ma non si sa E si vola con queste navi alimentate a carburante per le varie isole fluttuanti E noi siamo Eva, se non ricordo male il nome del protagonista L'ho già iniziato ed è una grafica molto molto particolare perché c'è la visuale dall'alto Un difetto in tutto questo che spesso non si riesce a capire esattamente con chi stiamo parlando Chi sono i personaggi Possiamo spostare i lampioni E vedete che qua potete andare a parlare con... C'è tutto un background dietro, non è banale, non è buttato lì perché si parla dello swarm L'attacco, ci sono questi pirati che hanno accidentalmente tra virgolette sparato a quest'isola La Fadership mi pare si chiami E la cosa che abbiamo fatto ora è stata quella di... In questo caso vedete che la storia ci guida e ci fa magari demolire i vari edifici e ricostruire Spendendo dei materiali ma in questo caso vabbè qua abbiamo costruito una farm Possiamo demolirla o upgradarla E qua ovviamente non possiamo farlo adesso perché dobbiamo ripulire completamente i dettagli Perché andiamo bene e vedete che poi si può costruire un giardino, un'armeria, una fabbrica Un workshop per le navi o un bar E ci sono anche le cose diciamo da usare Ma non è tutto qui perché se veramente la I o comunque il tab si va a vedere la mappa Di dove ci troviamo il journal con tutte le quest completate E i vari capitoli completati L'equipaggiamento, abbiamo le armi Abbiamo anche la possibilità poi di aggiornare e di potenziare le armi Abbiamo l'equipaggiamento, abbiamo la nave con tutto il relativo equipaggiamento E le risorse di cui siamo in possesso Molto bello il fatto che comunque abbiamo la nostra tannica di benzina E la tannica di benzina dobbiamo scuoterla per vedere quanto carburante c'è all'interno Poi abbiamo questo rampino Nonché questa... Anzi no adesso non ce l'abbiamo Abbiamo una pistola giocattolo perché c'era tutta la storia in cui ci veniva regalata questa pistola Ora dobbiamo andare a prendere carburante alla fuel station Quindi vedete che abbiamo questo rampino con cui ci muoviamo Qualora noi dovessimo cadere Avremo qualche secondo di caduta di tempo ancora per usare l'arpione Vedete che io adesso sto cadendo ma torno su con... Se no muoio e riparto da casa Tra l'altro abbiamo anche qui La possibilità poi di dormire per passare il giorno Non passare otto ore più che altro Qua vedete che adesso sta finendo A questo punto aspettiamo E vediamo che qua produce E possiamo harvestare tutto il campo con il cabbage Quindi i cavoli E possiamo andare a seminare ma in questo caso non abbiamo nulla Carry cabbage Non so onestamente dove metterlo quindi lo appoggio lì Molto bella mi fa impazzire questa cosa di spostare gli oggetti Qua c'è casa nostra Vedete un po' difficoltosa all'inizio con la grafica Perché qua vedete che c'è questa persona che non si sa chi è Fin quando non ci parliamo ma Qua vedete che poi spesso cercando di uscire vi confondete Comunque qua il letto per poter far passare il tempo Adesso qua c'è un danno che possiamo riparare Usando il martello e scrap metal No non ne abbiamo Quindi seguiamo la missione e vediamo Non so dirvi il prezzo quindi Potrei ipotizzare un 15-20 euro Li vale? Se vi piace il genere sì Secondo me sì A me ha fatto... Ok Vedete che adesso Vedete leave helm col tasto E Scusate Ok Ce ne andiamo E ora andiamo a fare carburante Vedete che ci sono le vele poi che entrano in funzione E qua abbiamo dato il turbo Il motore poi va a consumare Perché in basso a destra vedete La quantità in alto di repair kit La quantità di colpi Sotto la vita della nave in verde E in Quell'ocra Quel color sabbia E il carburante residuo Ora dobbiamo scendere E andiamo Magari con il rampino Qui Vedete che Anzi scusate che ma Voglio andare nell'inventario della nave Prendo la tanica Vedete che me la tengo? Me la tengo appresso E dovrei scuoterla Per vedere la quantità di carburante Ma onestamente non mi ricordo come si fa Comunque si va qui E si refilla Vedete che Poi il carburante si muove in base a Quindi adesso torno in nave La metto via Così poi Dobbiamo prendere la tanica E metterla nel motore Dobbiamo andare a parlare con lei Red Sembri messa male È Elsie Questa è Elsie Eva Hai sentito Cosa ha detto Cain Dello swarm Dell'ondata Non so cosa voglio dire Non ci sono notizie Dall'est Per anni Non ci sono state notizie Per anni Dall'est Questo significa che Il comandante Eldons Le forze Del comandante Eldons Non stanno Seguendo Sono informate Sulla situazione Della swarm Dell'ondata Non so per quanto rimarrò Ho bisogno di Assicurarmi Che papà Ah è nostra sorella Mi ricordo Che papà Sia in salvo Forse posso Aiutarti In qualche modo Elsie Elsie Calmati ora Respira Tutto andrà bene Capisco completamente Se fossi nei tuoi panni Insomma Sarei andata verso casa A pieno vapore A pieno vapore Quindi è tutto gas Molto tempo fa Ora è troppo pericoloso Kane Starà guardando Il Fathership Quindi la nostra isola Fluttuante Attentamente La guarderà Per i prossimi giorni Aspetta che tutto si calmi O fino a che Aaron Non torni indietro Pensi che stia Attualmente Tornando indietro Non ci sono state Notizie Di lui Parole da lui Per anni Per un anno e mezzo Tornerà presto Fidati di me Molto bene Se tu sei così certa Starò ancora un paio Di giorni O si Ho avuto Completamente Dimenticato Richard ha chiesto Di darti questo L'ho tenuto Lo special Per te Questi sono Tempi pericolosi È meglio Non lasciare La Fathership Senza un'arma E quindi Ci butta un'arma Lì Perché giustamente Ora no Voglio prendere il mitra E la pistola Puoi avere Solo tre armi Equipaggiate Allo stesso tempo Per passare da una all'altra Apri l'equipment Nel tuo tablet E seleziona Lo slot Ok Fammi un po' vedere Che devo fare adesso Acquista Le munizioni Del cannone Come posso aiutarti Voglio acquistare qualcosa Consumabili Ship ammo Questi sono È la valuta Ne abbiamo 380 Ne spendiamo 50 Compriamo 100 munizioni Voglio comprare anche Un kit di riparazione Che non si sa mai In alto a destra Vedete che ci viene scalato In alto a sinistra Scusate E viene scalato Qua possiamo comprare la tannica Il bello che voi comprate È la tannica Ma È la tannica vuota Dovete andare a riempirla E qua potete riempire Le munizioni Vabbè Comunque Andando qua Dovremmo vedere adesso Mettendoci al comando Il numero di munizioni Infatti vedete che ne abbiamo 100 Adesso è 8 Il repair kit Voglio andare a dare un'occhiata Però prima Alla mia arma Vedete che ho questo fucile Il fucile dovrebbe essere In qualche modo Potenziabile Qua ci sono le statistiche Con la E modifica Vedete c'è il tipo di mierino Il silenziatore La canna in pratica Le munizioni Tipi di munizioni Il calcio La pistola Allo stesso modo Dovrebbe essere Potenziabile No Non me la fa modificare Vabbè Non me la fa modificare La pistola Vabbè Intanto abbiamo la pistola Ok Mettiamoci al comando Anzi Vi faccio vedere Che faccio il pieno Prendo la tannica Vado Faccio il pieno Vedete che Si vede il livello Qua Devo fare il pieno Riempito La metto via E andiamo Graficamente Dal mio punto di vista È meraviglioso Ups Perché vedete che poi si spara Devo capire ancora Come Come Ah Sinistra e destra In base al tasto del mouse Ok 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 Capito E se spariamo Quella nave lì Libera L'isola Dai falcon Perché i falcons Non ho ancora capito Esattamente cosa siano Ma me lo citavano già Si può Uh no Sono di là Ok Allora Ragazzi Prendiamo il mitra E andiamo Ahia Quello è un esplosivo Ah si Qua ci sono Del legno C'è del legno Da raccogliere Gatter Un po' di roba Ah ma qua Sì Prendo anche Bacche Ah sto spostando C'è No Ehm Qualche cos'è Carrywood Ah non me l'ha Ok l'ho scavato Ma devo portarlo in nave Devo caricarlo Il gioco Questo è con me E mi aiuta Non so come Libera tutte le tre isole Ok No c'è tanto background Devo dire Non è assolutamente male Come gioco Perché è fatto bene C'era la versione prologue Quindi è una sorta di demo Questo è un bonus Che prendiamo Di più 90 I danni ai falcon Al momento Ah puoi mettere i materiali Nel warehouse E viene ritrovato In ogni warehouse Devo Questo lo si distrugge Con il Ok Qua si può entrare Dicevo C'è stata la possibilità Poi di provarlo E devo dire che Magari Gli indie Fossero tutti così Merita quello che costa Beh Bisognerebbe vedere Che quanto costa Però Calcolando che Comunque C'è una cura Maniacale Secondo me A livello anche Di grafica Secondo me Sì Ne vale la pena L'unico dubbio Che ho è appunto Se vi piace il genere Ecco L'unico dubbio È proprio quello Perché Magari a tanti Non piace Quello che è Magari è Ipoteticamente Anche un Un Open world La grafica Ci sono diverse cose Che magari potrebbero Non piacervi In primis La lingua Nel senso che Siete magari Difficili O non sapete L'inglese È comprensibile Io non ho capito Tutto perché L'ho giocato L'inizio abbastanza Velocemente Devo ammettere Però Non è male A me A me Non dispiace Diciamo Allora Vediamo un po' Qua ci sono altri soldi Perfetto Questo cos'è Si gattera Ok Ok Dovremmo aver finito Qui no? E Dove Vedere Vedere La mappa Sì Siamo Su questa Isola Qui Ma È dire Che è bello Grande Il mondo Questo si può Spostare Qua si può Comunque Attaccare Con la nave Io adesso Ho parcheggiato In un modo Un po' Particolare Ma Comunque Perché sta fumando La nave? Repair Ok Abbiamo usato Uno degli 8 kit Dovremmo averne 7 Infatti 7 ne abbiamo Allora Dobbiamo girare Di là Ma anche qua Dobbiamo liberare Giriamo di là Vediamo se Mi viene comodo Perché comunque I cannoni Sono potenti E non mi Non mi espongo io Accogliamo un po' Di soldi Qui abbiamo Del gathering Da fare La cassa Di pietra Che mi viene Utile Perché Devo potenziare L'isola principale Abbiamo Un altro gathering Lì Però questo Credo Vada sì Nel nostro Inventario Perfetto Andiamo avanti Andiamo avanti La vita Non è Messa benissimo Quella Questo è bello forte Mi sta anche Distruggendo la nave Quindi Ok Sta anche partendo Una temperatura Si è su riscaldato Mamma mia Queste chicche Mi fanno impazzire Ok Quindi spariamo Con l'altra Mannaggia Si è rotto Non si è Funzionerà ancora Vabbè Intanto Scendiamo A dare un'occhiata Non ci sono più nemici Qui Quest'isola Può essere Considerata difesa Ok Sì Va bene Resta Però La nave Dieci Di popolazione Recuperata Salvata Allora Aumenti la popolazione Liberando le isole La popolazione Dell'isola L'hai mostrata Sulla mappa Usando la popolazione Puoi attivare I vari miglioramenti Per arrivare La sua nave I miglioramenti Sono attivati Nell'armeria E Nello Ship Workshop Perfetto Molto bello Adesso devo andare A buttare Sta roba qui E soprattutto Vedere lo stato Della nave Ma non dovremmo Essere messi male Ok Questo è Scrap Metal Che mi fa comodo Lo metto via Abbiamo ancora Tutta la stiva Ancora disponibile Spondare di là Sì Mi sono lanciato In mezzo Però qua ci siamo Già stati prima Quindi adesso Il gioco suggeriva Fate Lo scatto Ok Niente Torniamo indietro Trova Aaron Ok No Troviamo Aaron Che è di là Facciamo giro Delle isole Di qua Acceleriamo un po' Sì Non siamo messi Malissimo Ah Si può ruotare I cannoni Con La rotella Del mouse Ok No Però solo Graduati Così Cioè Non è graduato Oh 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 C'è qualcuno lì Cos'è quello? Sono curioso Voglio andare a vedere Se c'è una garotta O qualcosa Scusate ma Preferisco Esplorare liberamente Piuttosto che Seguire solo La storia Basta No Sì C'è una garotta Lì Modbox Sì Allora Soldi Posso metterla via? Sì Ottimo Dovete puntare Nell'ottica Che dovete puntare Col mouse Quindi col mouse Ci si Guarda intorno Questi stanno giocando A biliardo Direi che Ci pensiamo noi Allora Il colpino è ancora Quindi Non c'è problema Tra l'altro Uno solo Mi sta Mi ha visto Si è riscaldato Troppo Ok Adesso si è svegliato Anche lui Spariamo con l'altro Ok Ferma Ok Abbiamo Possiamo portarci Un tavolo Da miliardo Sì Vabbè Non c'è Niente Da vedere Qua Credo No C'è una grotta Qualcosa No Niente Abbiamo fatto Solo un po' di Un po' di casino Niente Continuiamo verso La direzione Dove dobbiamo andare C'è una nave Lì Che Non so cosa sia Ok Qua È Il Allora Fatemi Parcheggiare Bene Qui Ok Perché se io Arrivo qui Ok Mi sono salvato Appello Mi pare Che se siamo Nel porto Possiamo Trasferire Vedete Tutta la merce Tutta la merce Nel porto Quindi la nave Resta libera A parte che la nave Io li lascerei Sopra Giusto la tannica Perché Quella mi serve Lì Però poi abbiamo Tutto già scaricato Al porto Quindi a questo punto Andiamo qui E leggi Dove Aaron Qui c'è una nota Tipo di diario Sorella Se tu stai leggendo questo Ti stai preparando Ad essere dove resti Ho trovato Il diario Di nostro padre Leggilo Diario di Richard È tutto colpa mia Perché ho portato Queste creature qui E in realtà Lui si portò Da uno dei suoi viaggi Una delle creature Dello Swarm E disse Queste creature Non fanno male Nessuno Le ho studiate Le ho studiate Le han portate Tutti quelli del villaggio Le hanno viste Aveva un aspetto Molto Poco rassicurante Perché aveva le chele Sembrava un enorme scorpione Non fa niente Non fa niente Uno di questi Che aveva accolto Il nostro padre Lo ha ucciso Ha ucciso questo E la storia Poi salta Sette anni dopo Quindi Insomma Va bene Cos'è quello Hey piccola miss Cosa ti ha detto Kane Sederti a casa E non andare Da ogni parte Che vuoi Pensi che Crash non l'abbia notato Perché lui è il tizio Che ci hanno messo qua A controllarci Ok Che dobbiamo va No Non posso sparargli Qua abbiamo messo Ok Tutto quello che abbiamo Nella Return Tornare Fathership Ma siamo Al Fathership Scusate Ma Qua Dovremmo avere Un po' Di materiali Ah Devo tornare Al Fathership Ma non siamo Al Fathership Quindi adesso Ma Sono strano Perché dovremmo essere A casa Adesso Vedete io Ancora Dei evidenti Problemi Di orientamento Parecchi Problemi Di orientamento Ok No Lui non possiamo fare nulla Al momento Però io me ne frego Perché dobbiamo andare alla nave Quindi Arrivederci No Non voglio caricare Tutta la roba Allora Fatemi prima riparare la nave Mi chiede un kit Fatemi ricaricare tutto Perché Voglio portarlo a casa Voglio riparare La nave Ok Ok Andiamo Questo gioco Poi lo vedrete Forse prima Dell'uscita Ufficiale Ma ripeto Una volta Non so dire Il prezzo Sicuramente È bello Intrigante Assolutamente Poi lo dico sempre Per tanti giochi Però ecco Si presta bene Anche a una live Pure lui Frena Hold Enter Ok Ah qua possiamo Sì vabbè Ehm Hold E andiamo a casa. Fatemi scaricare che adesso siamo realmente a casa. Fatemi scaricare, no, questo no. Tutto tranne la tanica. Vediamo un attimo qua. Avevamo tutto distrutto. Ma di nuovo, scusate, non avevamo mica fatto... Sì, infatti dovrebbe essere qui. Ah sì, ok, questo. Però non possiamo andare a piantare nulla. Vediamo se si può costruire qualcosa di nuovo. Un'armeria, sì, lo possiamo fare. Un'armeria che poi ci consente di acquisire equipaggiamente armi, mod e aggiornamenti per il nostro personaggio. Ma intanto andiamo avanti. Ovviamente qua non potete vagare come volete. Nel senso lo potete sempre fare, però c'è la storia. Ecco, no, vabbè, ci fa già fare quello che volevo fare. Costruire un'armeria. Quindi tengo premuto lo spazio e me la va a costruire. Guardate che poi c'è tutta la costruzione dei vari operai. L'armeria è stata costruita. Quindi a questo punto si fa sul craft. Potenza dell'equipaggiamento e la potenza della nave sono importanti indicatori della potenza del giocatore. La potenza totale dell'equipaggiamento può essere aumentata dall'armatura, dalla cintura, dagli stivali, dalle armi, dalle mod delle armi, dagli artefatti e dalle granate. La potenza totale dell'equipaggiamento è una media di questi oggetti ed è mostrata in alto al tablet. Quindi praticamente noi non abbiamo abbastanza risorse. Vedete che poi ci chiede le risorse richieste. Abbiamo anche le mod. Quindi vai lo sniper rifle che aumenta magari danno. In questo caso è utile perché ripristina lo 0,1% della nostra vita. Quindi praticamente è un millesimo della nostra vita. Questo ricarica le munizioni da 0,1%. Questo alla fine della ricarica usi il caricatore vecchio come una granata. Molto interessante anche questo. Molto interessante. Equipaggiamento. Vedete abbiamo le varie armature che possiamo fare. Ci serve cotone e scrap metal. Quindi potremmo decidere magari poi di coltivare anche il cotone. Il cotton, no? Adesso al momento non ne abbiamo. Magari possiamo andare anche ad acquistarle. Qui c'è qualcosa. Vediamo un po'. Carry cabbage. E non saprei cosa fare meglio del cabbage. Comunque lo butto lì. Crafta lo shogun. Posso posizionarlo lì, grazie. Fammi creatare lo shogun. Ok, questo lo posso fare. Perché? Ok. L'aggiornamento può essere trovato nel terminale armaria. Quando attivi un aggiornamento tu mobilizzi la popolazione. Una popolazione. Puoi disattivare un aggiornamento e la popolazione mobilizzata sarà demobilizzata. E potrai scegliere un altro aggiornamento. Per avere più popolazione. Ah ok. Praticamente in sintesi la popolazione diventa una risorsa. Vediamo un po'. Equipment power. No? Eppure non capisco. Acquisisci. Backstab upgrade. Ah ok. Vediamo un po'. Upgrades. Ah sì è vero. Ci chiede backstabs. Sarai in grado di fare danno molto ampio ai nemici colpendoli con l'uncino nella schiena. Ci chiede dieci persone. Quante persone abbiamo? No qui stiamo. Quindi sintesi la popolazione la spendiamo come potenza per noi. Sorella vola velocemente alla grande isola dell'acqua. La situazione con i falcon sta diventando brutta. E sempre più peggiore insomma. Guarda che cosa sembra che abbiano trovato il mio posto dove mi nascondevo. Va bene dai. Va bene. Liberare le isole che sono sotto attacco. Se non sei in grado di difenderle la popolazione e l'indicatore di popolazione scenderà. E alcuni dei tuoi upgrade saranno disattivati se la popolazione demobilizzata è insufficiente. Ok. Quindi in sintesi se un'isola è sotto attacco la perdiamo e noi abbiamo degli aggiornamenti che appunto sta usando della popolazione. Perderemo e si disattiveranno. 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 Ma non ci ha detto nulla riguardo alla perdita quindi credo sia comunque se sia tenuto. Install modbox. Noi avevamo prima di chiudere volevo provare questa cosa del modbox. Io il modbox l'ho preso. Eccolo qua. Scusami ma io take. Eh la prendo io. La metto dentro io il box qua. Install del modbox on your weapon. Vediamo un po' che cos'è. Shotgun sight. Il mirino. Ogni arma ha quattro tipi di mod. Per installare una mod varia equipaggiamento. Ok. Adesso lo facciamo. Quindi premo questo. Vado su equipaggiamento. Lo shotgun che è questo. Modify. Abbiamo il mirino. Quello che abbiamo sbloccato. Shotgun. Quello normale. Che è questo. E vedete che cambia. E lo montiamo. Ci dà più potenza. Più fire range. E facciamo più danno. E più range. Più 0.45. Quindi adesso siamo un po' più potenti credo. Oh. Ottimo. Bene. Bene bene bene. Ragazzi. Ora dobbiamo raggiungere la. Isola di Big Water. Allora ragazzi. Questo. Questo. Dal mio punto di vista. È un. Gran. Gran. Gioco. Black Skylands. Sviluppato da una quindicina di persone. Eh. Che dire. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Sono veramente curioso. Perché. Volete vedere indie intriganti. E credo che. Questa volta. Ne abbiamo trovato uno. Attendo i vostri pareri. E rimango comunque sempre. Disponibile. Eventualmente. Per farci una live. Una volta. Alla prossima ragazzi. E ciao ciao. 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 Grazie a tutti.